Gentili telespettatori, buona giornata. Non c'è stato nessun accordo Salvini-Draghi. Salvini dice io aspetto, aspettavo la proposta di Draghi. Ma Draghi ha detto ma quale proposta? Io non ti devo proporre proprio niente. Draghi ha fatto quello che ha voluto, lo aveva già detto, lo ribadisce e lo fa. Draghi non ascolta nessun partito, nessun capo politico, non gli interessa. Ha la possibilità di farlo perché non deve rendere conto a nessuno, solo a se stesso. Il leader della Lega cerca la sintesi, dice anche per Zaia certificazioni da usare in modo limitato. Bah, realmente i governatori hanno detto tutt'altra cosa, hanno detto dovremmo estenderlo il più possibile. Ma Salvini vede Zaia, che dice cose diverse. A Milano manifestazioni separate tra la Lega e Fratelli d'Italia. E così Salvini chiede milioni di tamponi rapidi, gratuiti o a basso prezzo per milioni di famiglie di italiani in difficoltà. Il governo non vuole mettere i tamponi gratuiti perché sta mettendo il green pass obbligatorio dappertutto proprio per indurre a vaccinare e tu Salvini gli proponi di mettere uno strumento gratis in modo che la gente, se non vuole vaccinarsi, non si vaccina. Ma è contro il disegno del governo dove c'è anche la Lega che vota all'unanimità. Capite la cosa curiosa, no? Matteo Salvini vuole uscire dalle posizioni poco comprensibili sul green pass. E punta di nuovo ai tamponi. Come avete sentito nel video precedente, ha cambiato quattro volte idea o di più sui tamponi. Tamponi gratuiti a pagamento, gratuiti a pagamento, adesso è tornato ai tamponi gratuiti per tutti. Dice il tampone è rapido e gratuito, è una soluzione. Spero che nessuno si metta di traverso. Salvini, ma l'hai capito che i tamponi gratuiti vanno nel senso opposto al governo che sta mettendo il green pass per obbligare la gente a vaccinarsi? Cioè, l'hai capito o fai finta di non capirlo? Secondo me fai finta. Salvini non sa più da che parte girarsi. Non sa più da che parte girarsi. Entrando in questo governo e capendo che Draghi comanda lui, doveva fare come Forza Italia che dice Draghi va benissimo quello che dice, obbligatorio il vaccino va bene, la morgese non si tocca. Ecco, Forza Italia sta facendo tutto quello che dice Draghi. Però tu entrando nel governo e fai quello che dice Draghi, ma poi tutto il giorno fai interviste e parli dicendo l'opposto, non ha nessun senso. Adesso arriverà in Consiglio dei Ministri quello che hanno deciso proprio ieri. Il leader della Lega ribadisce, io non ho visto ancora nessun documento e non posso commentare. Io sono solito leggere i documenti prima, ma visto che nessuno ha ancora nulla in mano, aspetto. Ma come? Se c'è stato l'accordo all'unanimità di tutti i ministri, compresi i tre ministri della Lega, su ordine di Salvini, come mi puoi dire che non hai visto e non sai ancora niente? Insomma, anche questo non ha senso. Certo, l'allargamento della necessità dei green pass e dei dipendenti a Salvini non piace. Dice, saremmo gli unici in Europa a farlo. Aspetto di leggere cosa c'è scritto, però. E poi commento. Quindi tu mi avevi detto, non indietreggeremo, adesso mi dici, aspetto di leggere cosa c'è scritto, e poi commento. Non poi decido e dico ai miei ministri di non votare, no, poi commento. Però sapete che col commento, sapete cosa ci potete fare col commento? Ve lo devo dire? No, non credo. Quindi è una contraddizione unica. Giorgia Meloni ha provato una sua difesa, ha detto proprio ieri, ma Salvini non è che non è leale, è che gli fanno fare cose che lui non avrebbe mai voluto fare. Eh, grazie al cavolo. Se non le vuoi fare, tu sei il capo politico di un partito che primo o secondo non si capisce, tu sei il capo politico di un importante grande partito e ti sei fatto mettere nell'angolo dal dottor Draghi? Beh, insomma. Ognuno poi è responsabile di quello che fa. Se lui vuol far così, prenderà poi le sue conseguenze. Il Consiglio dei Ministri è previsto per giovedì, 16 settembre. Oggi è mercoledì, prima mi ero confuso, pensavo fosse già mercoledì. Oggi è martedì, mercoledì, vabbè, giovedì 16 settembre. Sarà esteso il Green Pass a tutte le aziende pubbliche e private. Eppure la lotta fatta di distinguo al Covid nella Lega viene compresa da pochissimi. C'è qualcuno, ad esempio, tipo la... Come si chiama quella che c'è sempre in televisione? La mula... no, vabbè. È una che è sempre in televisione, che è una leghista, che è in tutte le trasmissioni, con una certa età, e difende a spada tratta tutto quello che dice Salvini. Ma si capisce che anche lei comincia a essere in difficoltà. Perché se ci fosse una linea ben chiara, tu dici, beh, cerco di difenderlo, no? Ma quando la linea cambia, sì, no, sì, no, tu che difendi? Cosa rincorri? Che rincorri? E poi, ai giornalisti, il giornalista che parteggia per la Lega, dico io, ma a te che te ne entra? Cioè, che te frega? Giornalista, hai la possibilità di essere libero, di esprimere le tue opinioni, anche di cambiare idea sulle persone, devi a spada tratta difendere l'indifendibile. Ma... Beh, comunque, ognuno fa quel cavolo che gli pare. Ieri Zaia ha definito una montagna di fantasie e resoconti giornalistici che parlano di una divisione della Lega tra governatori e il leader. Anche se dal friuli Venezia Giulia Fedriga torna ad aprire al Green Pass esteso, dice, dov'è utile utilizzarlo? Come in tutti i posti di lavoro, la scienza ritiene che sia utile, allora va utilizzato. Quindi non è contrario. Molti comunque non capiscono più la posizione del loro leader, Salvini, e i suoi distinguo sul Green Pass. Qualcuno avanza l'ipotesi. Se come molti di noi ormai temono in febbraio sarà eletto un nuovo Presidente della Repubblica, per l'ennesima volta del centrodestra, senza tener conto il centrodestra, allora le battaglie sul Green Pass potrebbero essere il precedente che abre la strada per dire addio al governo. Quindi farlo cadere. Vedremo quello che succederà. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata.